Si è svolto oggi pomeriggio il Consiglio Comunale a Ischia. All'ordine del giorno, ancora una volta, il regolamento sull'aumento della tassa di soggiorno con l'approvazione di un emendamento al testo, oltre che il gemellaggio con i comuni di Orabona e Francavilla a Mare. All'ordine del giorno, su richiesta dell'opposizione, è stata anche inserita la discussione sulle partecipate, Ischia Ambiente e Genesis in primis. Il Consiglio ha approvato l'emendamento presentato dall'assensore Iannotta che prevede l'estensione delle esenzioni agli appartenenti alle forze dell'ordine che si trovano a Ischia per ragioni di servizio e ai disabili, con disabilità riconosciuta al 100%, oltre che a un loro accompagnatore. Le altre categorie già esentate erano i minori e le persone ospitate gratuitamente dal Comune, anche in collaborazione con le diverse associazioni del territorio. Secondo un calcolo approssimativo, basato su dati statistici nazionali, tali esenzioni dovrebbero incidere sul gettito della tassa per circa 15.000 euro.